come velocizzare così la digitazione della tastiera su windows ovviamente salve tutti bentornati in questo nuovo video ragazzi riguarda la digitazione tipo quando andate a scrivere quando aggiungete così un carattere a quando scrivete è lento quindi in questo caso per esempio se io scrivo sul documento faccio così guardate quanto è veloce e anche quando cancella guardate un po' quanto è veloce quindi in questo caso se tu vai su tastiera pannello di controllo della tastiera ed eccolo qua ripetizioni carattere e velocità di ripetizione ovviamente se io metto minimo metto tutto lento qui faccio applica intermittenza cursore faccio minimo e adesso vado a scrivere guardate un po' quanto è lento cioè se avete avuto un problema del genere a scrivere lettere cioè guardate quanto è lento io voglio scrivere veloce questo è anche a cancellare quindi avete visto la differenza tra una digitazione veloce e stralenta eccola qua quindi velocizziamo tutto vai applica ed eccolo qua quindi salve a tutti e bentornati e cancello subito anche così tipo da capo da capo da capo da capo e questa è la digitazione veloce grazie alla proprietà della tastiera sul pannello quindi per velocizzare così la digitazione sulla tastiera questo era il metodo quindi se questo video ti è stato utilissimo su come velocizzare così la digitazione quando andate a scrivere qualcosa iscriviti lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao 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 ciao